Musica Di consiglio a tutti quelli che devono rinnovare la scheda elettorale di venire nei prossimi giorni così da fare questo cambio in pochissimo tempo e non obberare di lavoro anche chi è qui a disposizione del cittadino Nel giorno delle elezioni troppo spesso si formano lunghe code negli uffici delle municipalità a causa dei cittadini che soltanto all'ultimo momento si accorgono di dover richiedere una nuova tessera elettorale è un'abitudine da cambiare perché se ci si accorge in tempo di avere questa necessità e si provvede in questi giorni l'operazione avviene invece in pochissimo tempo come stanno dimostrando gli uffici comunali coinvolti che sono aperti in via straordinaria per assicurare il rilascio immediato del duplicato Oltre all'orario 8.30.14 da lunedì al venerdì infatti a partire dal prossimo lunedì 23 maggio saranno ulteriormente potenziate tutte le postazioni ed ogni sportello delle municipalità sarà aperto dalle 8 alle 18 da lunedì al venerdì compresi il sabato e la domenica 28 e 29 così come anche nel giorno di festa del 2 giugno, il giovedì precedente il voto Ricordiamo anche quali sono i casi in cui la tessera elettorale non è più utilizzabile ovvero smarrimento o furto, deterioramento, esaurimento dei 18 spazi riservati all'attestazione dell'esercizio di voto In particolare nel caso di spazi esauriti per il timbro si deve richiedere il rinnovo esibendo la vecchia tessera in caso di deterioramento bisognerà riconsegnarla mentre in caso di smarrimento o furto della tessera elettorale bisognerà prima presentare denuncia agli uffici di pubblica sicurezza Tutte le postazioni delle municipalità sono state dunque potenziate e saranno mantenute aperte in orari particolarmente favorevoli Nell'interesse del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e per non affrontare faticose code dell'ultimo momento invitiamo perciò i cittadini a verificare fin da ora se devono sostituire la tessera elettorale Un adempimento che se affrontato con queste modalità si risolve in pochissimi minuti